Claudio D'Albertis, Presidente del Lance, ha partecipato al X Congresso Nazionale di Legambiente. Lance sono sostanzialmente i costruttori. Perché gli imprenditori del settore edilizio partecipano al Congresso di Legambiente? Io credo che Legambiente sia ormai da anni un interlocutore fondamentale. Alla fine della fiera per noi il territorio, il territorio costruito, come dire, è la nostra materia prima. Quindi anche noi siamo consapevoli che questa è una risorsa che non può essere ricostruita. Quindi è una risorsa che va trattata con la dovuta attenzione. È una risorsa che non va sprecata. Credo che ci sia un tema, quello della rigenerazione urbana, in questo momento, che lega gli obiettivi di Legambiente e del Lance. Il tema del Congresso è il cambiamento. Per lei il cambiamento cos'è? Il cambiamento per me vuol dire assicurare ai giovani, ai miei figli, a quelli che verranno, un paese che sia realmente attrattivo, competitivo, dove ognuno possa trovare un lavoro e vivere nell'ambiente migliore possibile. In poche parole, assicurargli un futuro. Grazie. Grazie.